I virtuosi del teatro alla scala, protagonisti di Arezzo Classica. Il prestigioso assembla cameristico si è infatti esibito sul palco del teatro Petrarca assieme alla spalla dei violoncellisti di Sandro Lanfranchini. I virtuosi rappresentano un'eccellenza nazionale e a rilevanza internazionale. Sono guidati dal primo violoncello della scala Sandro Lanfranchini e faranno una musica particolarmente affascinante. Un altro grande risultato della nostra fondazione Guido d'Arezzo che nel nome del fondatore della musica, del codificatore della musica, ci propone un altro spettacolo di grande rilevanza per il quale il teatro già da oggi è tutto esaurito. I virtuosi sono uno strepitoso gruppo di musicisti dell'orchestra del teatro alla scala e della filarmonica della scala. Dagli archi di Santa Cecilia siamo arrivati finalmente a sentire i virtuosi del teatro alla scala di Milano, che devo dire che questo marchio mancava ad Arezzo dal 2007, il marchio scala. Nel 2007 vennero gli archi della scala, tra l'altro suonavo anch'io con loro, ma quest'anno abbiamo l'onore di avere i virtuosi e il maestro Sandro Lanfranchini. Ci si porta, è come un marchio positivo che ci si porta dietro sempre, ma mi sono reso conto negli anni che è uno dei capisaldi dell'Italia all'estero. Devo ringraziare Rita Cucce perché la nostra amicizia ventennale artistica ha portato a questa importante collaborazione. Lei è un'ottima interprete mozzartiana e speriamo ancora di poter collaborare assieme. I colleghi sono veramente, penso di un livello veramente molto alto, è un onore per me poter suonare con loro. Noi siamo sempre colleghi tutti i giorni, poi oggi diciamo, come si dice in gergo, esco dalle fila, ma mi faccio un po' portavoce di tutto il gruppo. Grazie a tutti i giorni.